Oh Gaga! E lei? E' un frango! Ehi Peppe! Come si? Troppo bene tu? Pare io sto tornando esattamente dagli Stati Uniti, The States! Pare troppo bello, troppo bello, un posto veramente bello, regionale, meraviglioso! Racconta! No però c'è tu qualche cosa a fare insieme a Karatà? Non mi dire! Canentano una sigla risse ma... Insomma, invece di picchiare me la metropolo da... Ma mica non mi faccio un bello giro per Manhattan? Una bella passeggiata a piedi è quello che ci vuole! E da un certo punto che stavo camminando, sono rossati e stavo cominciando a scurare... Bello! Questi grattaciere che si alluminavano! Alti eh! E parevano tanti affolo da Natale! Bellissimo! A un certo punto, pigchi, mi sento... Sai come quando uno si sente seguito? No! Sai quando hai d'impressione che c'è qualcuno che ti sta seguendo? No! Sai quando uno, per esempio, che sta camminando pigchi e sente a tipo che ad arrivere c'è uno? No! E tu lo spiego io! Dimmi! A un certo punto mi sento e mi votai e c'era uno! A uno che era una specie di nivore di un mese e vinte! Una peste! 240 kg! Un animale! Con l'occhio nasciuto da fuori! Mamma! A un certo punto adesso mai chiesto queste quelle mie! Ma sai, io tanto per non sbagliare allunga io passo! Certo! Allunga io passo, io allunga io passo! Eh? Girai a destra, io giravo a destra! Eh? Girai a sinistra, io a sinistra! Eh? Mi messo a correre, io si messo a correre! Magari io! Girai a sinistra e c'era un piccolo cieco, un mare arrivare, in tappai e chiamando un muro mi votai e l'avevo a 25 centimetri con l'occhio da fuori che ce n'esceva il sangue e sbuffava che pareva un doro! Magari mi stai rizzando chiaro! Era tutto sorato! Ricapito inizio tipo anni 70! Tipo Bob Marley! Che peggio? No! A un certo punto, un mare! Chi sto saccare la cenniera? No! E n'esce nei minchia che pareva una bottiglia di coca cola di oliozio immenso! Una sverga! Senza caffeina! No! Mare! Meno male che mi hai messo in due culo perché se mi eravano ancora a pontare la testa mi ammazzava! Che ti ho messo a questa barzelletta? No!